E' la Roma a battere il calcio d'inizio della ripresa. Nainggolan. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Sprecano questo croc. Sala! Ottimo l'intervento del portiere. Intervento facile per il portiere. Bertolacci. Punta l'area. Lo ferma ma non controlla. Ottimo intervento difensivo. El Sharawi. Si riparte con la rimessa laterale per il Milan. Rimessa veloce. Non lasciano il tempo ai difensori di piazzarsi. Desciglio. Paredes. Sala. Occhio al giocatore della Roma. Palla schizza via dopo il contrasto. Contrasto pulito. Pallone in out. Romagnoli. Sapata. Berardi. Grande pallone verticale. Pacca. Il difensore è un muro su questo tiro. C'è stata la deviazione. L'arbitro assegna la touche. La rimessa con le mani. Cambio dunque nella Roma. C'è spazio per andare. Pericolo. Ecco il tiro. Portiere che blocca senza problemi. Passaggio irraggiungibile. Palla che finisce oltre la linea dell'out. Antonelli. Saponara. Occhio cerca l'area di rigore. Berardi. E c'è la presa sicura del portiere. Perdono il pallone. Montolino. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Bertolacci. Bertolacci. Berardi. Occhio al suo movimento. Cercano spazio. Cerca l'appoggio al compagno. Protegge il pallone dall'assalto degli avversari. Nain Golan. Attenzione. Rischio è già ammonito. C'è una sostituzione tra i giallorossi. Palla in out. Ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Bertolacci. Desciglio. Saponara. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, è il momento giusto, Pier. Montolivo. Strootman. Chiude bene il triangolo. Attenzione pericolo. Una parata incredibile. Allora. Francesco! Conclusione da cancellare. Berardi. Palla vagante adesso. Bertolacci. Intep. Possesso palla per la Roma. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Bertolacci. Intep. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Saponara. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Bacca. Attenzione. Tiro murato. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Berardi. Non si fa sorprendere. Ancora un'occasione della bandierina. la grafica ci mostra i corner fin qui. Attenzione al movimento dei compagni. Ecco il tiro. Buona la parata impresa da parte del portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Saponara. Palla ancora per il Milan. Norma del vantaggio. Baragna metri. Artiglia bene il pallone. Ottima lettura difensiva. Difensore spazza in qualche modo. Ci sarà calcio d'angolo per il Milan. Sapata. Corrat. Correale. 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 Battuto male, palla in fallo laterale C'è il cambio, la sostituzione nel Milan Rimessa battuta male, pallone regalato agli avversari Ci sono metri a disposizione El Sharaoui, Roma che può attaccare, norma del vantaggio De Rossi Mario Rui Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale De Sciglio Occhio all'avanzato del Milan La manovra interrotta senza problemi Strotman Nainggolan El Sharaoui Cercano il buco della difesa avversaria Palla in out, si ricomincia con la rimessa per la Roma Hanno regalato il pallone su questa rimessa Berardi C'è Latouche Si riparte con la rimessa laterale Premia la corsa sulla fascia Perde palla Entra sul pallone e concede la rimessa laterale Guadagna metri verso l'area Bertolacci Può servire un compagno Tocco intelligente Berardi Cross in mezzo Buona lettura del difensore Pericolo, ecco il tiro Corner dunque Per l'ultimo tocco di un difensore Nyanga 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 Saponara Lo ferma ma non controlla Occhio la rimessa laterale per la Roma Mario Rui Occhio Cerca l'area di rigore Grande recupero Palla pagante Hanno accettato al vento questa rimessa Regalando il pallone agli avversari Occhio alla botta Conclusione da cancellare Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo Nyanga Ci vuole altro per batterlo oggi È in giornata Lo sta dimostrando Parata dopo parata Cosa avrà mangiato oggi il portiere? Impenetrabile Sventa qui la minaccia Ecco il tiro Palla che termina lontano Eccolo il fischio finale Vittoria per il Milan Considerando anche il risultato dell'andata Dunque la doppia sfida è arrivata La qualificazione sperata alla finale Eh sì Pierluigi E adesso devono proprio crederci La Coppa è lì Vicina Che li aspetta Può davvero essere soddisfatto della sua partita Voti altissimi in pagella Senza dubbio Ha trascinato al successo la sua squadra Con una fantastica doppietta Una prestazione di grande impatto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti